De Sauri per la quarta corsa, quattro anni non vincitori di 8.000 euro in carriera che si sfidano sul doppio chilometro. Saranno in 12 al via, c'è Charlie Dipa non partente. Quindi 7 in prima fila e 5 in seconda fila. Favori del pronostico orientati chiaramente su Classic Gal che si avvierà al numero 1 di contro. La curiosità di Castiglio nella versione Becchetti. Luce accese, macchina in movimento. Dallo steccato Classic Gal, Cibu dei Greppi, Candida del Sile, Castiglio, Crodinoz, Castro LJ, Clo ETS. Questi in prima fila. In seconda fila, Kiko BT, Coldplay YSL, Concita Pax, Classic Winner e Corsaro di Mare. L'allineamento che prende forma sulla piegata. Autostart in accelerazione. Problemi per Cibu dei Greppi. Ed è proprio Castiglio che va facile al comando. Nei confronti del 13 di Corsaro di Mare c'è stato l'errore di Castro LJ e ha rifiutato la partenza anche il 12 di Classic Winner. Castiglio è al comando nei confronti di Corsaro di Mare e arriva in solitaria al completare il lancio in 14.8. L'allievo di Lucio Becchetti libero di condurre con un paio di lunghezze di margine nei confronti di Corsaro di Mare. In terza posizione il favorito Classic Gal che precede Coldplay YSL. 400 iniziali in 29.9 da parte di Castiglio che ora tira leggermente i remi in barca, si fa riaccostare da Corsaro di Mare e in terza posizione sempre Classic Gal, poi il gruppo alle spalle che si assesta. 600 in 46.3 c'è 16.4 di frazione, Castiglio ha decelerato e Classic Gal abbandona la terza posizione per venire a pungolare il battistrada. Ora è al lato di Corsaro di Mare, cavalli che vengono qui davanti alle tribune, Castiglio al comando su Corsaro di Mare, all'esterno Classic Gal dal gruppo prova a migliorarsi Crodinoz. Si giunge al primo giro che Castiglio comodamente passa in 16.2. Castiglio, Corsaro, Classic Gal, poi Crodinoz a capeggiare la corsa degli altri, uno schema che non muta con Classic Gal che non guadagna granché sull'accelerazione di Castiglio. 1.39 i tre quarti di miglio, c'è 14.7 di frazione in curva per il leader Castiglio che prende ora di nuovo due di margine su Classic Gal che prova ad ingambarsi all'esterno di Corsaro di Mare. Poi Crodinoz, gli altri non ci sono più, sono rimasti in quattro. Castiglio e il rugantino in vantaggio su Corsaro di Mare che prova a rientrare a Classic Gal. Il leader affronta anche l'ultima curva in vantaggio e completa il miglio in 2.1.8. Castiglio leader nei confronti di Classic Gal che prova a scavalcare Corsaro di Mare e quindi Crodinoz che si gioca la piazza. Castiglio e Lucio Becchetti entrano solitari in retta d'arrivo su Classic Gal. Castiglio e il rugantino venuto dalla capitale e venuto qui con Castiglio a fare un vero e proprio assolo e a chiudere il tutto in 2.32.6. Al secondo Classic Gal e al terzo Crodinoz. 30.8 per la chiusa. Un vero e proprio canter di Castiglio numero 4 sul tabellone al primo posto sull'1 di Classic Gal e il 5 di Crodinoz. Castiglio per la scuderia My Dem 92. Il figlio di Ghiaccio del Nord allenato e guidato da Lucio Becchetti. Questo l'arrivo ufficioso della quarta di Foggia. 4-1-5. Linea alla regia. 4-1-5. Grazie.